Il fatto che Meloni sta cercando semplicemente di uscirne facendo finta di niente, quando le ricordo cosa successe a livello mondiale, quando Twitter, Facebook e Instagram fecero la stessa cosa in un altro caso, lo fecero con Trump, quando Trump ha totalmente travalicato anche lì i limiti della decenza e anche lì oscurarono i post di Trump. Mi sembra che siamo sulla stessa linea, Meloni è sulla linea di Trump, mi faccio dire che Trump è finito molto male, io vorrei che la situazione del nostro paese fosse diversa.